Una sorpresa, un piccolo sogno sportivo per l'Abruzzo e allora con il presidente Marco Marsilio, con il presidente federale Cordiano di Agnoni e l'assessore allo sport Mario Quaglieri lanciamo un'idea, parto da lei presidente Marsilio, ha fatto tantissimo per il ciclismo in Abruzzo, Tirreno Adriatico, Giro d'Italia, grande partenza del Giro d'Italia, manca il Mondiale, la prima data libera è il 2029, l'idea dell'Abruzzo con il Mondiale le piace? E' già piaciuta, ricordo che quando aveva rinunciato, se non ricordo male, la Svizzera, noi partecipammo, abbiamo perso solo nei confronti della proposta dell'Emilia Romagna che aveva proposto l'autodromo di Imola, a quei tempi con il Covid, quell'autodromo offriva tutte le opportunità e gli spazi per gestire in sicurezza quell'evento, cosa che noi non potevamo offrire, però tutta la commissione rimase stupita, compresa la Federazione Italiana che all'inizio ci aveva quasi dissuaso, dicendo che avete intenzione di fare, poi ci hanno tutti apprezzato, tutti fatto i complimenti per la qualità della proposta e siamo rimasti appesi a questa sorta di ci riproveremo e la Federazione ci aveva incoraggiato anche promettendo, avendo visto qual era la capacità dell'Abruzzo, io credo che l'abbiamo dimostrato anche con la grande partenza del Giro d'Italia, quindi i tempi sono maturi per lanciare questa sfida e proporre nella prima data utile la candidatura dell'Abruzzo per il Mondiale del Ciclismo. Presidente Dagnoni, credo che le parole del Presidente Marsilio siano molto importanti, la Federazione accetta la candidatura? Musica per le nostre orecchie ovviamente, io oggi ho avuto l'opportunità di apprezzare ancora di più questi percorsi, questo territorio, ma soprattutto anche queste persone appassionate di sport, appassionate di ciclismo e pertanto da parte nostra massimo sostegno a questa iniziativa e vediamo anche di sostenerla a livello internazionale. Qui la Presidente Marsilio, Assessore Quaglieri, accendiamo la candidatura? Accendiamo la candidatura.